L'ennesima discussione col Presidente di questa Regione che ha detto di volere risolvere a breve tutti i problemi di questa Regione, però diffidiamo di fronte a queste riforme che da un anno e mezzo sono state annunciate e mai realizzate. Quando si è trattato di aggirare i vincoli che dovevano limitare le retribuzioni dei parlamentari hanno inventato dei meccanismi tecnici. Oggi invece è piuttosto evidente che il blocco degli stipendi non è legato a difficoltà tecnica ma è una scelta precisa di mantenere la gente ostaggio dei giochi politici. Noi vorremmo dare una spallata forte al Governo, all'AS, non per fare le azioni anticipate e mandarle a casa ma affinché cambia un atteggiamento. Ma se non cambia un atteggiamento nel momento di attenzione, di mobilitazione, si è arrivato pure a casa. Ma vi auguro, la capisco in tempo, come noi abbiamo capito da tempo, di assumere i problemi dell'economia, del sociale, del lavoro, dell'inizio amministrativa come fattore principale a cui dedicare tutto il loro tempo.